Salve ben trovati con l'informazione del Tg Blu in apertura alla cronaca perché già lo affoggia per il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 46 anni in via Miranda in uno degli appartamenti abbandonati alla periferia di Foggia. Tutti i dettagli e le immagini in questo servizio. E giallo affoggia per la morte di una donna di 46 anni italiana il cui cadavere è stato trovato in un appartamento abbandonato in via Miranda alle spalle del centro commerciale alla Mongolfiera. Il corpo è stato trovato riverso sul pavimento in un locale al secondo piano di uno degli stabili abbandonati da tempo e diventati luogo di ricovero per senza tetto. Solo qualche giorno fa infatti la zona era stata sgomberata dalle forze dell'ordine. Sul posto questa mattina agenti di polizia, uomini del 118 e il medico legale. Stando in indiscrezioni sul volto sarebbero stati riscontrati segni di tumefazione. Pertanto tra l'ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di un omicidio. La donna potrebbe essere stata picchiata a morte. In via Miranda questa mattina c'era anche un cittadino nordafricano che è stato accompagnato in questura per accertamenti. Molto probabilmente l'uomo molto probabilmente è l'uomo che ha trovato il corpo della donna e che poi ha chiamato il 118. Gli agenti della squadra mobile che stanno indagando sull'accaduto stanno anche ricostruendo gli ultimi momenti di vita della donna per cercare di capire se frequentasse qualcuno o se nelle ultime ore avesse visto qualcuno. Continuiamo a parlare di omicidi ma di un omicidio di un extracomunitario messo a segno nelle campagne in Lucera nel settembre del 2015. Questa mattina c'è stata la richiesta del PM per i due presunti assassini padre e figlio. Il gastolo per Ferdinando Piacente di 65 anni e 20 anni di reclusione per il figlio Raffaele di 27. E' quanto ha chiesto il pubblico ministero Laura Simeone nel corso del processo per l'omicidio di Momodo Sare di 37 anni ucciso il 21 settembre del 2015 con due colpi di fucile. Ferdinando Piacente è accusato anche del tentato omicidio di un connazionale della vittima. Secondo quando accertato agli investigatori la serie dell'omicidio tre stranieri stavano rubando dei meloni al podere dei due imputati. Il più giovane ha avuto un litigio con uno dei tre. Poco dopo è intervinto il padre che ha sparato due colpi di fucile contro gli stranieri che sono fuggiti a bordo di una Fiat Uno. E' nato un inseguimento durato circa un chilometro fino a quando la Fiat è stata costretta a fermarsi perché è colpita da una ruota da una fucilata sparata da Ferdinando Piacente. I tre allora hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi. Il più anziano dei Piacente ha sparato nuovamente altri tre colpi uccidendo Sare e ferendo il connazionale. Il terzo straniero è rimasto in colme a pochi metri dal corpo della vittima fino all'arrivo dei carabinieri. Ed è stata proprio la sua testimonianza a chiarire cosa fosse accaduto poco prima. Cambiamo argomento questa mattina a protesta dell'associazione Grano Saulus di una gran parte degli agricoltori della provincia di Foggia che chiedono chiarezza sugli accordi proposti da Divella. De Bonis questa mattina a protesta degli agricoltori foggiani contro l'accordo proposto da Divella? Sì, questa storia degli accordi di filiera ci sembrano una favola per raccontare una storia diversa del mercato. Noi riteniamo che il mercato sia unico, vogliamo per questo una commissione unica che dia un prezzo unico, trasparente, equo per tutti i produttori senza distinguere produttori di serie A o produttori di serie B. Se l'azienda Divella sul mercato ha la ricerca di 40.000 quintali di grano che sono appena 4 giorni di fabbisogno lavorativo su un'azienda che ne consuma molto di più durante i 360, queste operazioni di marketing non possono essere accolte con favore dal mercato né tanto meno da noi produttori. Per cui se ci sono queste richieste sul mercato noi siamo qui oggi a dire alla commissione che se ne prenda atto e che quindi si registri a rialzo il mercato come è giusto che sia. Ripeto, 40.000 quintali per Divella sono 4 giorni su un anno e non ci sembra che questa sia una politica della qualità, ci sembra più una politica d'immagine per dire anche io voglio virare in direzione del mercato nazionale, del prodotto grano, del grano Salus che sente da contaminanti e quindi anche io vengo annoverato tra quelli che vogliono bene agli agricoltori e ai consumatori italiani. Noi vogliamo i fatti concreti, i fatti concreti sono stipulare delle filiere per il 100% della produzione, non per 4 giorni su 365. E come visto dalle immagini questa mattina alla manifestazione ha partecipato anche l'onorevole Giuseppe Labbate che è capogruppo della commissione agricoltura alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle che questa mattina ha ribadito che la CUN, la commissione unica nazionale sui prezzi dei cereali, deve essere fatta a Foggia. L'onorevole, qui a Foggia per ribadire che la CUN deve nascere qui a Foggia, proprio nel granaio d'Italia? Sì, la CUN deve avere sede qui a Foggia perché è la sede naturale in un territorio che è da sempre il primo produttore in Italia di grano. Adesso mancano solo le firme del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro per lo Sviluppo Economico per l'approvazione definitiva del decreto attuativo. Poi le associazioni di categoria devono chiedere l'istituzione della CUN e qui è fondamentale che gli agricoltori liberi siano ben rappresentati al tavolo della CUN per far sentire la loro ragione e per avere una contrattazione, una rilevazione di prezzi che sia finalmente chiara, trasparente e dettata da indicatori economici reali. Noi produciamo il grano, possiamo dire pulito, però importiamo grano pieno di micotossine? Il nostro grano è il miglior grano che possiamo avere sul mercato dal punto di vista dell'infestazione da micotossine. Noi per questo nella risoluzione approvata in Commissione Agricoltura abbiamo chiesto che il grano all'interno della CUN debba essere valutato in base ad una griglia di valutazione che abbia diversi parametri, il livello proteico, il livello di micotossine contenuto all'interno ed altri parametri. Questo è fondamentale perché un grano che sia sano per il consumatore deve essere giustamente pagato di più. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, vi abbiamo documentato la protesta scoppiata all'interno del CARA, il centro di prima accoglienza per richiedenti esilio di Borgo Mezzanone. Ebbene, il 7 novembre prossimo ci sarà un incontro tra il responsabile della struttura e una delegazione di migranti che chiedono alcune richieste, tra cui anche quella di un miglior cibo. Si svolgerà il 7 novembre prossimo l'incontro tra una delegazione di ospiti del CARA, il centro di accoglienza per richiedenti esilio di Borgo Mezzanone e il direttore della struttura per cercare di migliorare le condizioni di vita dei migranti all'interno dell'ex aeroporto militare. Un incontro deciso all'indomani della protesta degli ospiti e della visita del vice presidente del Senato Maurizio Gasparri. Da tempo i migranti chiedono la possibilità di cucinare loro stessi pasti, vista la qualità del cibo che ricevono, considerata pessima. Inoltre chiedono la garanzia di recarsi gratuitamente a foggia con i mezzi, così come previsto dalla legge aumentando gli autobus, visto che attualmente ci sono solo quattro corse giornaliere e un solo pullman per quasi 2000 persone. Nei giorni scorsi c'è stato un primo incontro tra una delegazione di richiedenti esilio e il direttore del CARA, anche se non erano presenti i prefettori a questura e commissione territoriale per l'asilo. L'appuntamento dunque è stato rimandato al 7 novembre. Intanto però una prima vittoria i migranti l'avrebbero già ottenuta. La cooperativa che gestisce il campo infatti si sarebbe impegnata a migliorare la qualità del cibo. E adesso parliamo di buche perché nell'ambito del progetto dell'ANAS Basta Buche sono stati stanziati in tutta la Puglia 36 milioni di euro per l'ammodernamento di alcune statali. in provincia di Foggia arriveranno 5 milioni. 5 milioni di euro stanziati per i lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale lungo alcune strade statali in provincia di Foggia. L'appalto che rientra in un più ampio programma di manutenzione sulle pavimentazioni della rete stradale ANAS in Puglia per un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro permetterà l'esecuzione di lavori che contribuiranno a migliorare notevolmente gli standard di sicurezza e riguarda la strada statale 17 VAR variante di Volturara, la statale 17 dell'Appennino Abruzzese d'Appulo Samnitico, la statale 692 tangenziale Ovest di Lucera, la statale 655 e Bradanica, la statale 90 delle Puglie Foggia Bovino, le strade statali 673 tangenziale di Foggia e 673 dir tangenziale est di Foggia ed ancora la statale 16 Adriatica, la statale 272 di San Giovanni Rotondo, la 89 direzione bigarganica, la 688 di Mattinata e la statale 89 garganica. Inoltre sono previsti lavori anche sulla 693 dei laghi di Lesina e Varano. Gli interventi rientrano nel progetto ANAS Basta Buche e saranno attivati mediante la procedura di accordo quadro che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con rapidità e ad un prezzo favorevole nel momento in cui si manifesta il bisogno, consentendo quindi risparmi di tempo e risorse e soprattutto una maggiore efficienza. E ora andiamo a Zapponetta, il comune che è sempre più nella morsa del deficit di bilancio, nel piccolo comune d'Auno ora mancano anche le agenti di Polizia Municipale e il comune chiede aiuto ai centri limitrofi. Zapponetta nella morsa del deficit di bilancio, in paese mancano i servizi essenziali, non solo il pulmino per gli studenti e i medici specialistici, non c'è nemmeno un solo vigile urbano o meglio l'unica vigilessa occupa il posto in ufficio e l'assessore Francesco Iacoviello chiede aiuto ai comuni limitrofi. L'articolo 14 dice che nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti i comuni si devono per forza associare obbligatoriamente con altri comuni ed è proprio questo che chiediamo noi, la Polizia Municipale, perché qui corrono su questa strada per la pubblica sicurezza, servono per le ordinanze, considerato l'avvento anche dell'imminente raccolta indifferenziata, fenomeni di vandalismo che si verifichano in paese e anche le ordinanze che devono essere rispettate. Abbiamo soltanto una vigilanza che svolge il suo lavoro di ufficio ma per strada non abbiamo chi svolge il lavoro di pubblica sicurezza, anche perché qui mi tocca ricordare a me due anni fa la morte anche di una ragazza su questo tratto urbano che io la chiamo l'autodromo di Monza. Quindi cosa chiedete? Io quello che chiedo è a tutti i comuni limitrofi una convenzione per la Polizia Municipale che verrà retribuita dal nostro comune attraverso uno schema di fabbisogno. Il centro abitato di Zapponeta è attraversato in pieno dalla SP141 con auto e camion che sfrecciano ad alta velocità. Iacoviello questa volta chiama in causa la provincia. Quello che io dico alla provincia che non deve chiamarci a dicembre soltanto per le votazioni, deve stanziare dei soldi per mettere dei semafori come in tutti gli altri comuni civili. Delle rotatorie è impossibile perché è molto stretto ma in tutti i comuni civili mettere dei semafori con dei flash. Tutto qui. Cambiamo argomento. Oggi la giornata dedicata ai defunti e tra le tradizioni c'è quella del grano cotto. Per alcuni risalirebbe la tradizione saracena, per altri alla Magna Grecia. Fatto sta che affoggi in altri centri della Capitanata non c'è famiglia che ricorda il 2 novembre con il grano cotto. Un rito che si perde nella notte dei tempi e che ormai è diventata parte integrante della tradizione di Capitanata. Grano, noci, melograno, cioccolate e vincotto, gli ingredienti principali della pietanza e con un significato ben preciso provenienti proprio dall'antica Grecia. Il grano cotto erano i defunti, il vincotto il loro sangue, le noci le loro ossa e gli acini di melograno gli occhi. Il grano è dunque associato alla morte e alla risurrezione diventando così il simbolo del continuo ciclo della morte e della rinascita. Un piatto legato anche alla vicenda dell'imperatore Giuliano Lapostata che avvelenò il grano dei cristiani i quali si salvarono mangiando del grano bollito per 40 giorni. E ancora oggi in Grecia si mangia grano cotto sulla tomba del caro istinto. Il grano cotto è un piatto semplice con gli ingredienti della terra, facili da trovare e facili da preparare. E così tra tradizioni, leggende e mitologie del grano cotto abbiamo un'unica certezza, un piatto ottimo da mangiare e da gustare. E adesso il calcio. Ripercorriamo con Rino Palmieri la partita del Foggia a Lecce. È un punto importante, prezioso, che tornerà molto utile a tempo debito quando si tireranno le somme, quello conquistato a Lecce dal Foggia. Pur se è un pizzico di rimpianto per alcune opportunità ghiottissime e non andate a buon fine per sfortuna, vedi sassata di rubi in dopo 5 minuti o per imprecisione e poca cattiveria sotto rete c'è. Quello che resta più di ogni altra cosa è la prestazione della squadra di Giovanni Stroppa, autorevole nell'approccio, sempre propositiva, costante nel cercare di far gioco al cospetto dei Salentini votati dal loro canto al contenimento e dalla ripartenza. Infine, pregevole nella gestione dei momenti in cui Lecce ha cercato di portare dalla propria parte il match. Il tonfo di Castellammare di Stabia, insomma, è definitivamente cancellato. Il campionato intanto ora dice Juve-Stabia capolista, ma con solo una lunghezza a suo foggio a Lecce e Matera per la serie di acqua sotto i ponti dovrà passarne ancora tanta. Già quella del prossimo turno, però, quando Juve-Stabia, Lecce e Matera andranno tutte in trasferta nell'ordine a Catanzaro-Fondi e Messina e i rossoneri faranno gli onori di casa al Catania, potrebbe regalare ai nostri eroi qualcosa di interessante. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie di averci seguito. Buon pomeriggio a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.